E allora sì, credo che salvare la democrazia dovrebbe essere l'ossessione di tutti noi. Questa puntata di Globo parte dalla morte di Silvio Berlusconi. E lo so cosa state pensando. Ma come? Questo è un podcast di cose internazionali, di cose del mondo. Perché dobbiamo parlare di Berlusconi e delle miserie della politica italiana perfino qui a Globo? Allora, avete ragione. A Globo cerchiamo di stare il più possibile lontani dalla politica italiana. E tutte le volte che possiamo, cedenteniamo alla larga. E però, è vero che la morte di Silvio Berlusconi ha creato un certo dibattito anche all'estero. Perché molti analisti e studiosi, negli ultimi giorni, hanno ricordato Berlusconi come il padre di un certo populismo che poi è diventato prevalente in tutto l'Occidente. Sui giornali statunitensi, per esempio, si sono sprecati i paragoni tra Silvio Berlusconi e Donald Trump. E quindi abbiamo pensato di chiamare qui a Globo una delle persone in assoluto più esperte di populismi. Non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Yasha Munch è uno scienziato politico tedesco naturalizzato americano che insegna all'Università John Hopkins e che fa parte del prestigioso centro studi Council on Foreign Relations. Ha scritto numerosi libri tradotti un po' in tutto il mondo e l'ultimo si intitola Il grande esperimento, pubblicato l'anno scorso da Feltrinelli. Soprattutto, Munch è uno dei maggiori esperti al mondo di populismo. I suoi studi riguardano come funziona il populismo, cosa succede quando il populismo si trasforma in autoritarismo ed estremismo e cosa fare per salvare la democrazia. Munch, anzi, è un po' ossessionato proprio da questo tema. Come la salviamo, la democrazia? E quindi a Globo partiremo, sì, dalla morte di Silvio Berlusconi, ma poi andremo molto, molto oltre. Cercheremo di capire le ragioni del successo del populismo e come si creano delle democrazie resistenti. Cercheremo di spiegare perché è giusto essere ottimisti e alla fine lo vedrete con un certo volo acrobatico. Rivaluteremo pure la rivoluzione liberale. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Yasha Munch, benvenuto. Grazie. Iniziamo da quella che, di fatto, è una delle più grandi notizie della politica internazionale delle ultime settimane, anche se per noi è una notizia italiana, e cioè la morte di Silvio Berlusconi. In un articolo che hai scritto sul magazine americano The Atlantic, tu hai scritto Berlusconi è stato il principale fondatore di una tradizione di politica demagogica che ha definito l'era moderna in alcune delle più grandi democrazie del mondo, compresa la Turchia, il Brasile, l'India e perfino gli Stati Uniti. Questo è un elemento di dibattito anche in Italia, quanto lo stile di governo, diciamo così, di Berlusconi abbia influenzato il resto del mondo. Qual è la tua idea? Per me, quando io ho cominciato a pensare della politica, io ero sui 40 anni, Berlusconi sembrava come un fenomeno molto strano italiano, qualcosa dove, diciamo, se leggevi i giornali in Germania, in Gran Bretagna, anche negli Stati Uniti, puntavano sull'Italia e su Berlusconi come qualcosa forse del passato, qualcosa molto a parte del resto del mondo, anche sempre un po' col riso. Guardate gli italiani come sono strani. E oggi, guardando la carriera politica di Berlusconi, vediamo che ha molto in comune con altri politici che hanno molto influsso in altri paesi. Diciamo, come Donald Trump era un miliardario che è entrato nella politica, come Donald Trump era sempre in guerra con la giustizia nel suo paese, come Donald Trump ha, per un certo periodo, ha avuto successo dividendo il paese veramente in due parti che non si capivano, che a volte si odiavano. E allora, oggi, guardando quel periodo, dobbiamo vedere che quello era un po' l'inizio di una nuova era politica nel cui questa forma di populismo è stata molto importante, non solo in Italia, ma in altri paesi europei, negli Stati Uniti, in India e in questi altri paesi. Quello che direi comunque è che Berlusconi oggi sembra un po' strano, nel senso che non era molto ideologico. Sicuramente era più di destra che di sinistra, non era esattamente moderato, ma era molto capace di fare dei discorsi anche molto violenti sull'immigrazione, eccetera. Però, di punto di base, non era un uomo ideologico, era qualcuno che voleva servire i suoi stessi interessi, gli interessi dei suoi compagni, ma non aveva un gran progetto ideologico per trasformare il paese per far avanzare certi valori. Quello che vediamo oggi è un populismo che ha molti punti in comune con Berlusconi, ma che tante volte ha un'ideologia di destra, di destra estrema, molto più chiara, molto più decisa. E quello forse è il punto più importante di differenza entro un Donald Trump, un Haia Bolsonaro, anche in suo modo, un Arendra Modi o un Rezberdo in Turchia comparato a Silvio Berlusconi. Prima di andare avanti e passare dall'Italia, da Berlusconi al resto del mondo, ti chiedo se puoi darci una definizione semplice, diciamo così, una definizione di lavoro di populismo. Cosa intendi tu per populismo? Sì, ti darò una definizione del populismo e vedremo che forse sembrerà che sto parlando di Berlusconi, ma in realtà ascoltatori americani potrebbero pensare che sto parlando di Trump e quelli turchi potrebbero pensare che sto parlando di Erdogan. Ed è di dire che il vero problema della politica è che i responsabili sono corrotti e non si interessano per la vera gente e per risolvere questi problemi bisogna solo che uno che parli veramente per il popolo, che rappresenta veramente il popolo possa raggiungere il potere. E quello che è molto importante è quel populismo ed è quello che lo rende pericoloso non accetta la presenza di un'opposizione legittima. Nel senso che dire senti, io non sono d'accordo con il governo. Forse anche penso che il governo sta facendo degli orori gravi o di cose pericolose non è antidemocratico. Ma se tu dici io e solo io rappresento davvero il popolo e allora quelli che non vanno d'accordo con me non stanno esercizzando qualcosa di normale una democrazia che non siamo tutti d'accordo che abbiamo differenti valori politici differenti idee di come ammigliare una situazione è che io parlo per il vero popolo il popolo legittimo e tutti quelli che mi attaccano sono dei nemici del popolo sono dei traditori quello rende fa parte dell'essenza del populismo e lo rende tanto pericoloso e quello sicuramente Berlusconi lo faceva di maniera molto chiara e vediamo come ha ispirato altri populisti nel mondo. In un altro articolo sull'Atlantic del 2021 quindi più di due anni fa che insomma di questi tempi è praticamente un'era geologica tu scrivevi potremmo aver raggiunto il picco del populismo questo era il titolo poi in realtà nel pezzo tu spiegavi molto meglio era molto più esteso e articolato il ragionamento però insomma dopo la sconfitta di Donald Trump dopo la sconfitta di Bolsonaro in Brasile l'idea era che insomma la grande ondata del populismo stesse un pochino venendo meno sei ancora convinto di questa cosa che impressione hai adesso? Sì e no nel senso che c'era un periodo nel cui i populisti hanno vinto quasi tutte le grandi elezioni e in cui le più grandi democrazie del mondo erano tutti governati dai populisti gli Stati Uniti il Brasile l'India e anche altri e in quel momento la paura era che sarà molto difficile sconfittare un populista che una volta che è al podere può trasformare il sistema in tal modo che diviene molto difficile di mandare a casa una figura eletta di maniera democratica di maniera democratica cioè che si potrebbe etabliare per sempre e che anche se il popolo cambia la sua idea non poteva mandarli a casa per me la notizia degli Stati Uniti nel 2020 e nel Brasile poco dopo è stata molto importante mostra che comunque rimane possibile in questi paesi di mandare a casa i populisti per via democratica e oggi queste due grandi democrazie non sono governati dai populisti in quel senso forse quel momento di potere quasi assoluto del populismo è passato però quello che è diventato anche molto chiaro in questi due anni è che evidentemente il populismo rimane parte di questa cultura politica in entrambi i paesi che la speranza che avevano tanti che una volta che Trump è sconfitto se ne va a casa e non dobbiamo più parlare di lui ogni giorno non era realista che Trump oggi continua a avere molto influsso sul partito repubblicano che rimane la figura la più probabile come rappresentante dei repubblicani ai elezioni presidenziali del 2024 e che in realtà se guardi la una della New York Times del Washington Post nelle ultime settimane tanti giorni Trump era sulla una a causa dei processi contro di lui eccetera eccetera allora mi sa che in realtà la miglior maniera di capire il momento è che siamo abbiamo oltrepassato il momento di 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 potere massimo del populismo forse il momento dove veramente era al cuore di tutto ma il populismo rimarrà una tradizione molto molto importante e anche molto pericolosa per i prossimi decenni è diventato normale in un certo senso che fa parte della politica di quasi tutte le democrazie continua a ponere dei veri problemi per la democrazia ma non è più al podere in ogni grande democrazia come lo era ancora due o tre anni fa possibile anche che il populismo in un qualche modo si stia trasformando e stia diventando gradualmente un po' più una forma di estremismo diciamo penso per esempio all'Italia dove per vent'anni tu sei un osservatore della politica italiana abbiamo avuto governi che più o meno flertavano con il populismo prima Berlusconi poi vari governi con il movimento 5 stelle adesso abbiamo un governo che non so se definirei populista è proprio un governo di destra con alcuni elementi di destra piuttosto spinta piuttosto risoluta nel Regno Unito Boris Johnson era un altro che flertava con il populismo anzi era un populista fatto e finito adesso il governo di Rishisuna che è un governo molto più risolutamente di destra che in alcune circostanze per esempio sull'immigrazione fa politiche anche piuttosto crudeli penso semplicemente la Spagna dove ci stanno le elezioni il mese prossimo e dove Vox che è un partito neofascista rischia di essere determinante per il governo se non direttamente di entrare nel governo in Finlandia in Svezia il populismo sta cambiando? Sicuramente è molto cambiato riguardo al punto col cui abbiamo cominciato la conversazione se guardi il Borlusconi di 1995 di 2000 non era una figura molto ideologica e anche se era capace di dire cose molto di destra anche cose contro gli immigrati sicuramente riguardo a questi movimenti politici di questi governi di cui stai parlando era piuttosto moderato e lì vediamo sì una fusione entro il populismo e l'ideologia della destra dura della destra estrema allo stesso tempo non so se quello è un fenomeno generale che rimarrà dominante è un po' presto per dirlo Rishisunak per esempio nella Gran Bretagna è piuttosto una figura moderata nel suo partito e sul punto di vista di immigrazione i conservatori britannici sono stati molto molto duri da molti anni allora non direi che nell'intero della sua politica Rishisunak è comparabile sicuramente a Vox della Spagna o anche a Giorgia Meloni in Italia e anche in Italia dobbiamo dire che perché Meloni è diventata per il momento la figura dominante della politica era un po' a causa di un caso politico che tutti i partiti erano in un governo di unità un governo tecnico e i fratelli d'Italia erano il solo partito che stava fuori quando io ho letto questo nei giornali quando il governo si è formato dopo la coduta del governo Lega Nord 5 Stelle io immediatamente mi sono detto va bene vorrà dire che questo partito che è stato fuori di questo governo sarà molto più popolare di prima ora vediamo come cambia la situazione politica in Italia io sicuramente su quello sono meno esperto di te meno esperto di tanti tuoi ascoltatori ma guardando gli ultimi 15 anni comunque c'erano molte figure politiche che sembravano molto dominanti che sembravano trasformare il sistema politico da Matteo Renzi a Matteo Salvini a altri che dopo un paio di anni hanno avuto una forte perdita di rilevanza allora vedremo se Giorgio Meloni e la sua ideologia saranno ancora tanto dominanti in Italia fra due anni come lo sembrano ora in che modo il populismo un populismo che peraltro come dicevi tu si sta normalizzando è un pericolo per la democrazia quello lo abbiamo visto di maniera molto chiara in vari paesi dove i populisti sono stati al governo per molto tempo lo vediamo in Ungheria in Turchia in India in Polonia ed è che non accettando l'opposizione legittima non accettando non realizzando l'importanza di poderi entro lo Stato che non sono direttamente dipendenti del governo rendono molto più difficile la vera opposizione mettono molta pressione sulla gente di andare d'accordo con il governo questo può cominciare con gli editoralisti dei giornali i giornalisti alla televisione ma abbastanza velocemente può arrivare ai insegnanti di scuole pubbliche a quelli che lavorano per lo Stato in maniera anche non politica per tutti quelli che sono nel servizio pubblico e a un certo punto può anche diventare un problema per il funzionamento di uno Stato di un governo quello che vediamo in Turchia oggi è che un sistema nel cui nessuno può dire al presidente che sta sbagliando sulla politica economica è un sistema che permette un'inflazione non come in Italia di 7-8-9% ma di 100% di 150% e questo sicuramente non è il caso in ogni paese populista ma vediamo che il rischio di questi grandi sbagli di politica economica e oltre che non possono essere corretti a causa del potere di una figura al centro di sistema esiste in molti contesti possiamo dire forse che tu sei un po' ossessionato dall'idea di salvare la democrazia tra le altre cose il tuo podcast molto consigliato peraltro si intitola The Good Fight la buona lotta e il sottotitolo è un podcast che cerca le idee le politiche le strategie per sconfiggere il populismo autoritario cosa cosa hai imparato in questi in questa lotta sì forse sono ossessionato di salvare la democrazia perché studiando la storia ma anche per motivi biografici capisco bene cosa vuol dire quando la stabilità di un sistema politico che forse non è perfetta che anche i suoi sbagli i suoi problemi è buttata via per il promesso di un futuro molto migliore che però in realtà tante volte causa delle guerre delle guerre civili dei grandi prigioni nel cui tutti quelli che non sono d'accordo sono sono messi e allora sì credo che salvare la democrazia dovrebbe essere l'ossessione di tutti noi allo stesso tempo devo dire forse anche in maniera un po' autocritica che quello che ho imparato in questi sette otto anni nel cui sto parlando di questo tema che la colpa non è solo con gli altri la colpa non è solo con quelli che votano per persone che forse noi consideriamo problematici o anche pericolosi tante volte è anche con noi stessi allora io quando dico noi stessi cosa voglio cosa intendo dire beh io vivo negli Stati Uniti ci sono arrivato per il mio dottorato di ricerca e sono entrato in un circolo sociale diciamo che si potrebbe nomare l'elite americana di professori di giornalisti ma altre anche di persone che fanno del business eccetera e che tante volte sono molto ciechi ai veri problemi del paese e pensano che tutti quelli che sono in favore di Donald Trump sono cattiva gente che in realtà sono tutti sessisti razzisti che sono persone che diciamo davvero non meritano neanche essere rispettati e provare di raggiungerli sarebbe uno sbaglio politico e forse di maniera ancora più profonda un sbaglio morale e sfortunatamente quello in una democrazia non te lo puoi permettere per essere democrato in un senso profondo devi pensare che la maggioranza della popolazione comunque è capace di essere morali è capace di fare la giusta scelta anche se forse a volte votano per una persona che è pericolosa anche se sicuramente non vuol dire che non dobbiamo criticare Trump che lo critico quasi ogni giorno della mia vita ma capire che se tante persone sono tanto attratti di questi figuri politici forse è perché hanno anche una colera legittima contro i problemi che esistono nel sistema e su quello mi sa che sono diventato molto più autocritico su di me sul mio circolo politico in Italia forse il discorso è un po' differente che quella elite esiste un po' ma di maniera molto meno chiara che negli Stati Uniti che mi sa comunque che per vari motivi anche i responsabili politici economici in Italia hanno molto più contatto con varie parti del paese con altre classi sociali ma evidentemente in Italia da 30 anni quasi non c'è la crescita economica c'è un sistema abbastanza corrotto c'è il problema che tanti giovani che hanno molto talento non si sentono capaci di trovare un buon lavoro senza avere la raccomandazione del padre o del cugino e tutto quello causa della rabbia che forse è un po' differente degli Stati Uniti ma che è ancora più ragionevole e allora sicuramente dobbiamo spiegare cos'è il popolismo perché è pericoloso dobbiamo battersi contro ma anche in media di questa battaglia dobbiamo essere capaci di autocriticare di vedere dove il sistema non funziona dove forse anche in virgolette noi elite dobbiamo vedere dove stiamo facendo dei sbagli questa cosa che dicevi sulla mancata crescita economica è molto interessante nel tuo ultimo libro il grande esperimento uscito l'anno scorso per Feltrinelli tu dedichi praticamente un paragrafo alla necessità della crescita economica e fra le altre cose scrivi le lotte per la distribuzione dei beni economici o per la giusta assegnazione dello status sociale sono molto più facili da tollerare quando la torta da spartire diventa sempre più grande anziché quando si rimpicciolisce ci racconti un po' cosa significa sì quello che stiamo vivendo in Italia e di maniera ancora più forte in altri paesi europei è un importante cambio demografico in Italia la gran maggioranza della popolazione fino a 30-40 anni fa aveva origini italiane nel senso che quasi tutti i suoi nonni stranonni venivano del territorio che oggi è l'Italia e a causa dell'immigrazione e di altri cambi oggi quello non è sempre vero c'è una parte di più in più importante della popolazione italiana che ha i radici fuori dall'Italia in altri paesi europei in paesi asiatici anche nei paesi del medio oriente eccetera e nell'Africa e quello è un cambio importante che non è sempre facile perché accettare una persona porta con sé elementi di una cultura che è differente e anche che di maniera visibile viene di fuori è difficile abbiamo visto nella storia cosa significa quando paesi quando società non sanno gerire questo cambio e il passaggio che ha letto dice che in realtà quello è molto più facile quando comunque la gran maggioranza della società ha l'impressione che le cose si ammegliano che io più o meno ho avuto quello che volevo nella vita che sono contento con la mia vita con la mia casa col mio lavoro e allora va bene se mi arriva un nuovo vicino che ha la casa ancora più bella una macchina ancora più grande forse anche un lavoro migliore non mi fa paura perché io sono abbastanza contento con me stesso e la mia situazione e poi se io ho l'impressione che già non ho avuto le opportunità che volevo già non ho il stile di vita che mi merito già il mio talento non è stato riconosciuto e ora c'è questo vicino che forse ha certe cose che io vorrei avere diventa molto più facile spuntare la responsabilità su di lui e dire ah il problema è che lui ha avuto dei vantaggi che io non avevo che forse lo stato gli aiuta troppo che forse non mi piace questa persona e allora sicuramente per gerire queste democrazie di più in più multietnice di più in più multireligiose dobbiamo anche avere un sistema economico che permetta alla gran maggioranza della popolazione di dire io sto piuttosto bene forse sto meglio dei miei editori ho la speranza che i miei bambini staranno meglio di me e se no temo che questi conflitti che sono forse inevitabili in un momento di cambio demografico saranno di più in più importanti sempre nel tuo libro tu fai una distinzione piuttosto netta e secondo me molto interessante fra pessimisti e ottimisti tu lo scrivi proprio così e dici che i pessimisti sono quelli che vedono nella demografia un giudizio inappellabile e che dicono tendenzialmente che visto come vanno le cose visto questo grande cambiamento demografico che è in corso difficilmente riusciremo a salvare la democrazia per come la conosciamo e con ogni probabilità ci troviamo in un percorso in discesa in peggioramento mentre invece tu sei un forte sostenitore dell'idea che bisogna mantenere l'ottimismo è una delle cose che dici è uno dei messaggi più forti del tuo timo libro in generale delle cose che hai scritto di recente ci racconti questo dibattito fra pessimisti e ottimisti e soprattutto perché l'ottimismo sì ma per primo per me non è un discorso di pessimismo e ottimismo è un discorso di essere realista io come scrittore non è che dico va bene vuole solo essere ottimista lo cercherò i temi o i fatti che mi servono per essere ottimista ma quello che mi sembra interessante nel discorso per esempio sull'immigrazione è un pessimismo di un certa maniera condivisa della destra politica e anche di molti miei amici nella sinistra politica dove specialmente negli Stati Uniti in Francia in Germania in Inghilterra ma anche in un certo modo in Italia c'è il pessimismo di destra che dice ma quelli che stanno arrivando sono inferiori in maniera culturale o forse dicono anche sull'estrema destra sono inferiori di maniera genetica o biologica e perciò non avranno mai il successo di quelli che stanno già in questo paese che questi immigrati non avranno mai lo stesso livello di educazione di partecipazione economica eccetera perché non sono uguali evidentemente la sinistra non è d'accordo con questa descrizione e non lo sono neanch'io ma hanno tante volte hanno spesso un pessimismo che si presenta in un'altra maniera ma che non è meno pessimista e di dire ma in realtà vediamo che gli immigrati non hanno successo non hanno questo livello di educazione come diciamo parti delle società che c'erano già prima a causa del razzismo dell'iscriminazione del fatto che non hanno neanche delle possibilità per partecipare e lì c'è una verità parziale nel senso che il racismo la discriminazione esistano senza dubbio e ci dobbiamo battere contro ma guardando i migliori studi i migliori statistichi in realtà quello non è appunto vero la realtà è un po' più ottimista di quello che dicono sia questi presoni di estrema destra sia i miei amici sulla sinistra perché nella OECD per esempio il figlio o il nipote di un immigrato ha una probabilità molto superiore al figlio o il nipote di una persona già originaria nel paese di vivere una storia di ascento socio-economico di andare all'università come prima persona nella sua famiglia di guadagnare di più che i suoi genitori dei suoi nonni e quello lo vediamo in tanti paesi europei e altri e negli Stati Uniti vediamo in realtà nel miglior studio che ha guardato un milione di informazione che la velocità con la cui i migrati oggi del Vietnam del Kenya del Salvador del Messico avanzano nella società americana è più o meno la stessa della velocità con la cui i migrati irlandesi o italiani avanzavano nella società americana cent'anni fa anche cento anni fa quello era un processo difficile un processo lento nel cui la prima generazione forse faceva di lavori piuttosto di base in medio anche la seconda generazione la generazione che per prima è nata nel paese non ha raggiunto la media della società ma nella terza e quarta generazione sicuramente l'ha fatto e lì devo dire che guardando le nostre società oggi abbiamo anche dei grandi successi dei cui dobbiamo parlare l'Italia quando ho conosciuto questo paese anche vent'anni fa era ancora un paese molto omogeno che era sempre aperto ai turisti eccetera dove i pregiudizi contro minoranze razziali o persone che venivano al di là dell'Europa erano molto forti e quello sicuramente esiste ancora ma si vede anche il cambiamento della società la maniera nel cui persone originarie di altri continenti altri paesi poco a poco diventano una parte della società italiana si fanno accettare e lì devo dire che comparato alla maniera nella cui tante società multietnici multireligiosi hanno fallito di maniera molto violenta nel passato stiamo in una strada un po' più ottimista appunto che il discorso vorrebbe accettare un'idea molto interessante che tu racconti nel tuo ottimo libro ma in vari articoli è quella legata al liberalismo filosofico che è secondo te una delle ricette per cercare di battere diciamo così il populismo autoritario anzitutto ti chiedo ce ne dai una definizione perché liberalismo è una parola un po' prezzemolina nel senso in Italia è legato a una corrente politica specifica poi negli Stati Uniti ci sono i liberal che sono le persone di centrosinistra ci dici tu cosa intendi per liberalismo e liberalismo filosofico sì molto volontieri che appunto il liberalismo è un po' anche come la democrazia altre parole è tanto usato che a volte è difficile sapere cosa vuole significare in molti paesi quando dici liberale la gente pensa che vuol dire piuttosto essere di destra su domande economiche piuttosto diciamo qualcosa come l'SFR negli Stati Uniti liberale è un sinonimo per dire essere di sinistra su questioni economici ma ancora di più su questioni culturali eccetera io quando parlo del liberalismo parlo di un principio fondatore del nostro sistema politica ma molto molto importante che deve sempre essere difeso che noi sì vogliamo avere del autogoverno vogliamo avere quel elemento di democrazia che vuol dire che siamo noi il popolo a decidere le nostre regole non dei re o dei generali militari eccetera ma c'è anche un secondo aspetto quello liberale che è anche molto molto importante e che c'è un limite a quello che anche questi regoli decisi di maniera democratica ci possono dire che noi dobbiamo avere delle libertà individuali che vengono difesi sia ai nostri vicini sia alla società sia allo stato stesso che io ho la libertà di parola che posso dire quello che voglio anche se forse ti offendi che io ho la libertà di conscienza che non devo fare parte di una religione della cui non appartengo che non devo fingere di ervore dei valori che non sono i miei che io ho la libertà di assemblea che posso organizzare un protesto contro il governo ma posso anche decidere chi inviterà la scena e chi forse rimane da me dopo la scena tutti questi sono diritti fondamentali che vengono della tradizione liberale che vuole dire che c'è un campo della vita personale nel cui nessuno nello stato nei nostri vicini hanno il diritto di dirci come dobbiamo vivere da tempo si dice che il liberalismo è in crisi ci puoi raccontare le dinamiche di questa crisi e perché in realtà tu sostieni che il liberalismo crisi o non crisi sia la strada che dobbiamo perseguire per salvare la democrazia si è in crisi perché vediamo di maniera molto chiara come i popolisti e altri attaccano queste idee di libertà individuale di liberalismo vediamo per esempio in Turchia che negli ultimi anni c'erano migliaia di persone che sono andate in prigione a causa delle loro opinioni politici vediamo anche attacchi sui diritti individuali della del libera parola di altri componenti molto importanti negli stati europei e vediamo anche quello è una cosa che faceva sempre parte delle paure dei liberali cominciando da John Stuart Mill la pressione della società negli Stati Uniti per esempio ci sono di più in più cause nel cui qualcuno perde il suo lavoro perde la sua base economica perde anche tutti i suoi amici diciamo tutto il contesto sociale a causa di dire qualcosa che è considerato offensivo anche se forse non intendeva mai di offendere anche se interpretato di maniera razionale non ha detto niente di male allora c'è anche il pericolo specialmente con i social che diciamo rientriamo tutti nei dinamici del piccolo villaggio di 300 anni fa nel cui qualcuno ti accusa di aver fatto qualcosa contro la morale collettiva e di un giorno all'altro tutto sei ostracizzato e allora credo davvero che stiamo in un momento di crisi per il liberalismo nel cui questa libertà di essere te stesso di dire quello che vuoi di di minare la vita come te la pare a te è sotto attacco dello Stato ma anche della società anche sui social perché la dovremmo comunque difendere beh per prima perché credo che in tanti casi la punizione sia dello Stato sia collettiva è ingiusta per secondo perché la paura di questa punizione rende miserabile tante persone io lo vedo con i miei studenti in università americana che non vogliono più discutere della politica perché hanno paura di quello che i loro colleghi potrebbero mettere su TikTok su Instagram e allora hanno sempre paura nella vita anche quotidiana di parlare di quello che gli interessa e per terzo è un problema perché quelli che fanno queste decisioni alla fine sono sempre quelli che hanno il podere e alla fine non sono i marginalizzati quelli senza ogni podere che decidono cosa viene considerato offensivo cosa no alla fine quasi predefinizione sono sono quelli al podere formale o informale quelli che già hanno la capacità di fare di prendere delle decisioni e quello apre anche il rischio che la società si perde molte innovazioni importanti che avendo paura di parlare di maniera chiara su temi difficili noi non non realizziamo delle innovazioni o non facciamo cambiamenti morali quello che io trovo interessante per esempio è che ho dei amici progressisti negli Stati Uniti che pensano che la libera parola è una cosa molto pericolosa perché può essere usata per esempio per dire delle sciocchezze su persone gay ma negli Stati Uniti 30 anni fa la maggioranza della popolazione era omofoba di maniera molto chiara se si guarda le statistiche in realtà abbiamo avuto delle avanze su questo tema incredibili anche in Italia l'accettazione dell'omosessualità è molto molto superiore riguardo a 30 o 40 anni fa e allora quello è un dono della libertà di parola se 30 anni fa o 40 anni fa non avremmo avuto la libertà di parlare di questi temi se le persone gay non avevano avuto la libertà di dire in pubblica chi sono chi amano anche in situazioni dove era difficile farlo ora non saremmo arrivati a questo punto e allora l'idea che tutti i nostri nonni erano cattivi e stupidi e solo noi abbiamo capito esattamente dov'è la buona morale e perciò possiamo permetterci a dire agli altri cosa possono dire cosa no mi sembra abbastanza sbagliata dobbiamo continuare a avere dei dibattiti anche se vuol dire a volte che una persona cattiva può dire delle cose cattive dobbiamo opporsi a quello parlando con lui o spiegando perché questo non è vero piuttosto che provare di utilizzare la forza sia dello Stato sia delle grandi compagnie come Meta o Twitter per decidere di cosa possiamo parlare in pubblico ti chiedo una previsione che so che è una cosa che non si chiede agli studiosi ma siamo in un podcast insomma stiamo chiacchierando la puoi chiedere se ce la rispondo dipende vediamo fra 20 o 30 anni cosa dovrà succedere che situazione dovrà esserci per poter dire ok abbiamo salvato la democrazia cioè quali saranno le caratteristiche che dovremmo vedere per dire ce l'abbiamo fatta l'ondata del populismo o è passata o è stata normalizzata o in qualche modo è stata sconfitta ma per primo dobbiamo avere del leadership politico coraggioso chiaro che parla in lingua anche morale ma senza essere troppo innamorato di se stesso senza avere il disprezzo per il resto della società dobbiamo avere dei progressi economici che permettono alla maggioranza della popolazione di dire senti alla fine comunque forse questo sistema non ideale ma più o meno funziona e funziona anche per me dobbiamo trovare un modello culturale nel cui siamo capaci di integrare i nuovi arrivati di capire cos'è un'Italia per esempio una Germania negli Stati Uniti chi sarà più multietnica che lo è oggi o che lo era 20 o 30 anni fa ma che comunque guarda anche la continuità storica che comunque ha una cultura insieme della cui possiamo essere fieri tutti insieme che fa sentir valutato la gran maggioranza della popolazione se i suoi origini siano fuori dall'Italia o in Italia e finalmente dobbiamo avere dei responsabili politici mediatici eccetera che forse sono capaci di vedere i sbagli non solo dagli altri ma anche di se stesso prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo chiocciolalpost.it vi ricordo che potete attivare le notifiche e che potete consigliare Globo alle persone a cui potrebbe piacere e adesso Yasha Monk ti chiedo tre consigli libri film podcast serie tv musica che ti abbiano ispirato e che vorresti suggerire allora forse cominciamo siccome abbiamo un po' parlato del liberalismo del scritto sulla libertà di John Stuart Mill che per me spiega ancora di maniera molto chiara e molto elegante perché la libertà umana è tanto fondamentale e di cosa abbiamo bisogno per rendere veramente libera la gente e dargli l'opportunità di essere creativi nel modo che puoi essere creativo solo se sei libero allora siccome comunque la tradizione anglosassona è un po' meno rappresentata nella società italiana nella filosofia italiana per chi non ha letto On Liberty sulla libertà di John Stuart Mill è un libro molto molto bello il secondo libro è uno che consiglio sempre a tutti fuori d'Italia in Italia è sempre un po' evidente ma per chi non ha letto Il gatto pardo rimane per me il romanzo politico più chiaro più interessante sulla politica è che mostra anche in un certo modo i falsi promessi del cambiamento noi abbiamo bisogno di cambiamenti politici ma dobbiamo anche capire come un promesso di cambio politico spesso non risulta nelle migliorazioni che speriamo neanche che sperano quelli che ne fanno parte come terzo consiglio direi un essay un scritto di 15-20 pagini di Benjamin Constant che si chiama La libertà degli anziani comparata a questa dei moderni che per me spiega di maniera più chiara di tutt'altro che ho letto di cosa ci possiamo aspettare in tempi moderni e cosa è realistica cosa vuol dire essere liberi nel novecesimo o anche nel nostro secolo e perché questa libertà è ancora più fondamentale nelle democrazie moderne che lo era per esempio nella Repubblica Romana Yasha Monk grazie grazie